e la moglie no eh eh tu prima hai sbagliato hai parlato dell'età della signora e non lo dovevi fare no no la signora no ci mancherebbe Gianni Gianni fatti vedere che il signore ti sta cercando tu sei dietro al poster non lo faccio più promesso ok loro sono Van Klinken Jost e Van Klinken Enrica no il numero 20 oh scusa Gianni stai sbagliando Bianchi Roberto e Bianchi Milena io oggi proprio ecco perché primo numero 20 su PMV R69 S600 del 66 guarda il numero io sono andato in ordine eh vabbè vabbè oggi l'ho fatta grossa oggi non so se rientri a casa oggi sarà l'ultimo giorno ufficiale per la Milano Taranto finisce qua la mia avventura vieni avvicinati che voglio fare la foto vai dai non è che con la scusa vai 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 che adesso ti fa una bella caricata vai 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 vengo a cercare vai 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 Grazie.